Siracusa, cavallino di ritorno di scooter rubato, voleva storcere denaro, denunciato un minore. Era passata da poco la mezzanotte quando gli agenti dei lavoranti sono intervenuti nei pressi di via Rodi dove poco prima un minore di 17 anni aveva subito un tentativo di estorsione da un giovane suo coetaneo. La vittima era stato rubato un motociclo nei pressi del tempio di Apollo in Ortigia e poco dopo mentre cercava il mezzo giunto nei pressi di via Malta veniva raggiunto da alcuni giovani tra cui un suo coetaneo che gli chiedevano una cifra non ben quantificata di denaro per restituirgli il ciclo motore. Il pronto intervento di un equipaggio delle volanti ha consentito di individuare e denunciare per reato di estorsione un giovane 17enne siracusano. Il motorino rubato non veniva allo stato rinvenuto. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate a fare piena luce sulla vicenda relativa al furto del ciclo motore e alla tecnica utilizzata dall'estorsore, meglio nota come cavallino di ritorno. Nella serata di ieri i gentili del commissariato di Lentine stavano effettuando un posto di controllo quando un'autovettura alla vista della polizia invertiva repentinamente il senso di marcia e cercava di allontanarsi per eludere il controllo. Dopo un breve inseguimento i poliziotti bloccavano l'autovettura, una Citroën Picasso e sottopanevano i due occupanti a perquisizione personale estesa al mezzo. I due uomini rispettivamente di 46 e di 43 anni venivano trovati in possesso di una modica quantità di stufacente per uso personale, pertanto venivano segnalati all'autorità amministrativa competente.